Il sindaco Massimo Cialente condivide, anzi sollecita, l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla ricostruzione dell'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma del Seprile 2009. Una richiesta arrivata da diverse parti politiche, tra cui il Partito Democratico con la senatrice Stefania Pezzopane, l'Italia dei Valori con il senatore Maurizio Romani e il Movimento 5 Stelle con la senatrice Enza Blondo. Cialente ha ribadito assente il locutore in Senato dove è stato ascoltato ieri che l'unico servizio che si può rendere al Paese è che la commissione d'inchiesta sulle vicende del pre-post-sisma vada finalmente in porto e che cominci il suo lavoro a partire dallo sciame sismico che ha attanagliato l'Aquila a cavallo fra il 2008 e l'aprile 2009 e arrivi fino ai giorni nostri per ricostruire tutta la vicenda. Noi la vogliamo assolutamente, noi aquilani, per due motivi la vogliamo. Il primo perché vogliamo essere giudicati per come da soli, perché la regione non c'è stata, da come da soli i comuni terremotati, in testa chiaramente del comune dell'Aquila, hanno affrontato questo terremoto. Noi riteniamo che da questa esperienza, una volta fatta la commissione di indagine, finalmente il Parlamento, che finora è stato sempre molto pigro su questo, tiri fuori i criteri di come si previene, come si affronta la fase di emergenza, come si fa la ricostruzione e così via. È stato giusto inviare sulla costa, potevamo risparmiare 5 euro a persona al giorno, le tendopoli sono la risposta giusta, perché abbiamo fatto il progetto casa e questa è la risposta da dare, o è stata fatta il progetto casa perché si era deciso di non ricostruire l'Aquila ed era stato giusto pensare a non ricostruire l'Aquila, se poi invece grazie alla tigna degli Aquilani e alla pazzia di qualcuno, cominciando dal sindaco, poi si è visto che si può ricostruire?